Ragazzi, non so da voi, ma qui fuori sta facendo una tempesta e il tempo fa a dir poco schifo. Sapete che cosa significa questo? Significa che è arrivato il momento di leggere qualche storia horror. In particolare, oggi andremo a leggere la chat di Jessica. Io non conosco questa conversazione, ma dovrebbe far morire dalla paura. Beh, è semplice, basta leggerla e lo scopriremo insieme. Prima di cominciare a leggere questa chat, ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace. Raggiungiamo 8000 mi piace in questo video se forreste un'altra chat horror. Perché ho notato che queste chat vi piacciono molto. Quindi, 8000 mi piace, nuova chat. Detto questo, che dite? È arrivato il momento di cominciare a leggere? Oggi sarà un po' diversa la cosa. Infatti, questa chat in realtà è un video. Si tratta di una chat inserita all'interno di un video. E questa non è una cosa buona, perché significa che potrebbe comparire qualcosa di spaventoso da un momento all'altro. Quindi, beh, a questo punto possiamo iniziare. Prima di tutto leggiamo il messaggio che ci ha mandato una certa Amy, che non ha nemmeno l'immagine del profilo. Ehi, ciao. Chi sei tu? Sono una nuova ragazza che abita qui vicino. E dove hai preso il mio numero? Dalla tua amica. Chi? Jessica. È impossibile. Perché? Oh, caspita. È morta in un incidente un anno fa. Ma come? Io l'ho incontrata a scuola oggi. Mi ha detto che era la tua migliore amica. E mi ha dato il tuo numero di telefono, dicendo di chiamarti se mi serviva qualcosa. Bene, la situazione si fa strana. Un'amica morta dà il numero di telefono ad una tizia sconosciuta. Non prendermi in giro, lei è morta. Capelli marroni corti, occhi blu. Ma che cavolo? Chi sei tu? Amy, una nuova ragazza. Sì, devo andare. Ciao. E qua la tizia decide di salutarla. Perché ovviamente ti scrive una persona a caso. Ti si mette a dire La tua amica morta mi ha dato il numero. Ti viene un po' di strizza. Dici, che cazzo è questa? Poi, nuova chat. Jessica ti ha mandato il video? Jessica è morta, stai zitta. Vai a vedere il video, è divertente. Un video? Ecco. Questa adesso fa paura. Un video? Non ditemi che lo devo guardare. Per favore, dimmi chi sei e perché non ti ho già visto. Sono Amy. Sono stata la prima amica di Jessica. E dopo mi hai rimpiazzato con te. Ma ora è di nuovo la mia migliore amica. No, io sono curioso di sapere che video è quello. Perché c'è proprio un indirizzo. Adesso sapete che faccio? Vado su YouTube e lo metto. Voglio vedere che video mi compare. Ok ragazzi, ho scritto l'indirizzo di quel video. Vediamo un po'. Che cosa significa questo? Che il video è stato rimosso da YouTube. C'è una pagina completamente vuota di YouTube dove non puoi cliccare nulla, non puoi fare nulla. Bene, qui ci stiamo iniziando ad addentrare in qualcosa di strano, mi sa eh. Ok, quindi indagando questo video non porta da nessuna parte. Cioè, manda ad una pagina di YouTube dove non puoi cliccare e fare niente. Continuiamo a leggere questa storia. Vediamo che cosa succede. Sai, Jessica è triste perché non la saluti mai quando vai a scuola. Bene, ma se Jessica è morta, come cavolo è possibile questo? Spiegamelo. Jessica è morta e smettila di chattare con me. 0000, mezzanotte. Perché hai scritto mezzanotte? Cosa? Rispondimi ora. Sei qua fuori? Rispondimi. Qualcuno è fuori dalla mia casa. Ed è quasi mezzanotte. Venti. Che cavolo? Ti sto chiedendo se sei qui fuori. Cioè, quindi sta sentendo dei rumori fuori da casa? Ho sempre saputo che amavi Jessica. Jessica, ora tu avrai una chance di essere con lei. E dato che Jessica è morta, immagino che la chance di tornare con lei sia morire. Chiamerò la polizia. Perché non gli hai detto che l'amavi? Sto chiamando la polizia. Quindici. Quindici sono i minuti che mancano a mezzanotte. Perché sono le 23.45. Quindi, quindici minuti. By the way, comunque. Hai guardato il video? Beh, io ci ho provato e non mi compare nulla. Quindi non so che cosa sia quel video. Sarei curioso di vederlo, eh. Sarei curioso, eh. Perché stai contando i minuti? E no, non l'ho guardato. Stai bussando alla mia porta? Bene, questo fa paura. Ah, dieci. Dieci minuti. La polizia sta arrivando. Cinque. Vai a vedere il video. Puoi salvare Jessica e te stessa se vai a guardare il video. Ok, lo sto andando a vedere. Ah, quindi questo sarebbe il video che ha lasciato Jessica prima di morire? Allora, se stai guardando questo, probabilmente è troppo tardi. Perché ti conosco. Il mio nome è Jessica. E sono morta un anno fa. Molti di voi pensano che è stato un incidente di auto. Ma non è stato così. Ho incontrato quella ragazza. La ragazza chiamata Amy. Quindi la tizia con cui stiamo parlando in questo istante. Vuole conoscermi. E vuole diventare mia amica. Ma... Mi ha mandato il video. È stato spaventoso. Ma pensavo che fosse uno scherzo. Alla fine... Alla fine ha detto... Prendi la sua anima, amica. Per dirgli che la ami da mezzanotte. Che cosa significa? Se non lo farai, fallirai. E sarai morta. Ok... Io ho provato di tutto. Ma avevo solo un migliore amico chiamato Mark. Ho provato a far innamorare questo amico di me. Lo so, è stupido. Ma non potevo fare nient'altro. E di certo... Lui non mi ha detto che mi amava. E ora... Sono morta. Quindi questa Jessica morta doveva riuscire a far innamorare qualcuno per sopravvivere. Ok, siamo quasi alla fine. Se guardi questo video almeno alle 23.59, tu salverai la mia anima e te stesso. Se non lo fai, tu verrai con me. Ah, che ore sono adesso? Ah, bene. Allora, lei ha iniziato a vedere il video alle 11.57. Quindi, in teoria, si dovrebbe essere salvata. Non so. Ok. Però la risposta è alle 2 di pomeriggio. Dell'altra tizia. Diemi. Tutto quello che dovevi fare era dirle che la amavi. E guardare il video. Ora divertiti. Bene. Bene. Da questa risposta possiamo intuire... Che la tizia non ce l'ha fatta. Perché negli horror i protagonisti muoiono sempre? Me lo dovete dire. Comunque sia, ragazzi, una storia molto carina. Mi è piaciuto il fatto di mettere quel video. Anche se avrei voluto trovarlo veramente su YouTube. Sapete che figata andare a cercare quel video e trovare qualcosa di spaventoso per davvero? Ci devo pensare io. Adesso la creerò io una storia horror del genere. Per il momento posso dirvi che è tutto. Spero che la storia horror di oggi vi sia piaciuta. Se così fosse vi invito a lasciare un mi piace perché a raggiungimento di 8.000 mi piace vi porterò una nuovissima chat horror. Lasciate anche tanti commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Seguitemi sul mio profilo Instagram. Mi trovate con il nome di Golden Jumpy. E noi ci vediamo alla prossima. Un salutone e ciao a tutti. E noi ci vediamo alla prossima.